Un'aquila incerottata si avvicina alla sfida di domenica pomeriggio a Prato. Nella giornata di ieri infatti si è fermato il mediano croato Ervoj Milicevic, uno dei più positivi nelle ultime uscite dei Rossoblu. Si tratta di un problema muscolare al quadricipite. L'ecografia a cui il centrocampista di proprietà del Pescara si è sottoposto nella giornata di ieri non ha evidenziato lesioni, ma lo staff tecnico Aquilano non ha intenzione di rischiarlo domenica in vista del rush finale di stagione. Stesso discorso per l'esperto centrale difensivo Emanuele Pesoli, che ha ancora fastidio al flessore. Difficilmente verrà schierato dal primo minuto a Prato. Dunque il tecnico Carlo Perrone dovrà ridisegnare il suo 3-5-2. In difesa al posto di Pesoli, considerando anche la concomitante assenza di Maccarrone per squalifica, potrebbe essere il turno del giovane Luca Bruno, che ancora non ha mai giocato dal suo arrivo nel mercato invernale, mentre nel cuore della mediana Milicevic dovrebbe essere sostituito da Benzaglia con Bulevardi e Manuel Mancini-Mezali. Sulle fasce potrebbe rivedersi il tuttofare triarico impiegato con ottimi risultati nel finale contro la Maceratese da trequartista dietro la prima punta. Non è però escluso che alla fine l'allenatore Aquilano opti per la conferma del tandem San Domenico-Perna. In questo caso triarico potrebbe giocarsi il posto da quinto di centrocampo con Chiri eletti, appena tesserato e pronto all'esordio.